no giusto con con grande ciampa chi ci sta oggi allora dove vieni marocco quindi fare una pizza particolare quando come continua la tradizione vero al ritorno 8 anni dopo 8 anni al marocco guardate che bella guardate sono già pronti non ci resta che augurare a tutti di venire qua e mangiavi un'ottima pizza ciao